Ciò che rende unico SketchUp nel panorama dei programmi di modellazione 3D è innanzitutto la semplicità di utilizzo. SketchUp infatti non richiede all'utente conoscenze pregresse di modellazione 3D. Chiunque con un po' di pazienza può incominciare ad utilizzarlo e se ogni giorno fa un poco di pratica, dopo appena una decina di giorni questa persona può diventare in grado di rappresentare semplici modelli tridimensionali, ad esempio il modello di un edificio, di una cuccia di un cane, eccetera. Altra caratteristica che rende unico SketchUp è la sua stretta integrazione con la rete internet. Grazie al programma è infatti possibile caricare i propri modelli tridimensionali online nella cosiddetta galleria di immagini 3D per fare in modo che altri modellatori possano scaricarli, visualizzarli, modificarli. E noi a nostra volta possiamo fare così con i modelli realizzati da altri. Attualmente nella galleria di immagini 3D si contano milioni di modelli tridimensionali che è possibile riutilizzare liberamente. SketchUp ha introdotto la pratica della geomodellazione. Come il nome stesso suggerisce, si tratta della possibilità di realizzare modelli tridimensionali di edifici esistenti, ad esempio una chiesa, un monumento storico, il palazzo di un'istituzione, eccetera, potendo poi caricare questi modelli su Google Earth. Google Earth è un altro programma realizzato da Google che permette di visualizzare il mondo, il globo, in maniera tridimensionale utilizzando fotografie satellitari e aeree. Ebbene, grazie a SketchUp è possibile realizzare dei modelli 3D e poi vederli nel globo tridimensionale. Se i propri modelli vengono approvati, devono essere modelli di edifici esistenti, tutti gli utenti che utilizzano Google Earth potranno vedere a loro volta quel modello. Ad esempio qualcuno ha realizzato il modello del Colosseo, l'ha reso visibile su Google Earth e così milioni di utenti ora, quando passano sopra al Colosseo utilizzando Google Earth, possono vedere quel determinato modello.